Ministri di Cristo al servizio della Chiesa e degli altri, così Papa Francesco ha definito i membri del Centro Internazionale del Diaconato ricevuti in Vaticano in occasione del loro cinquantesimo anniversario di fondazione. Ancora una volta il Pontefice, parlando ai diaconi, li ha esortati ad imitare l'esempio di Gesù e a tener fede al comandamento che egli consegna ai discepoli quando dice amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. L'amore è infatti l'unico strumento per continuare la missione del Figlio di Dio sulla terra e prendersi concretamente cura delle persone con le loro necessità. I diaconi manifestano in modo particolare il comandamento di Gesù, imitare Dio nel servizio degli altri, imitare Dio che è amore e si spinghe persino ai servizi. Il modo di agire di Dio e il suo agire con pazienza, benevolenza, compassione e disponibilità per renderci migliori e quindi deve distinguere anche tutti i ministri, i vescovi come successori degli apostoli, i sacerdoti, i loro collaboratori e nel concreto servire alle mense i diaconi. Proprio i diaconi sono volto della Chiesa nella vita quotidiana di una comunità che vive e cammina immenso alla gente e dove non è grande chi comanda ma chi serve. Per favore, ha aggiunto il Papa a braccio, questo è un servizio diaconale che vi chiedo adesso, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.